A decorrere dal 1 gennaio 2025 se le cartelle dell'Agenzia delle Entrate a riscossione non saranno riscosse entro il quinto anno, saranno automaticamente discaricate. A decorrere dal 1 gennaio 2025 se le cartelle dell'Agenzia delle Entrate a riscossione non saranno riscosse. Questi due dei cambiamenti più consistenti presentati nella bozza del decreto legislativo che dovrebbe ridisegnare il sistema di riscossione del fisco. Sulla questione si è espresso anche Alessandro Gassman che sulle tasse, e in particolare su chi non le paga, aveva già scritto la sua opinione su qual è il vantaggio che un cittadino che paga regolarmente tutte le tasse trarrà dallo stralcio delle cartelle esattoriali di chi invece non le ha pagate e per 5 anni è riuscito a farla franca. Qual è il vantaggio che un cittadino che paga regolarmente tutte le tasse trarrà dallo stralcio delle cartelle erariali di chi invece non le ha pagate e per 5 anni è riuscito a farla franca?